Chuck si gira a Figline Valdarno nel centro storico della cittadina. Sono in compagnia dell'aiuto regista che ci spiega la scelta di questa location qui nel Valdarno. Abbiamo scelto questo posto perché per i olandesi ovviamente è bellissimo, in Olanda non abbiamo posti del genere e questo paesino si prestava per la storia. Ecco, la trama del film immagino... Purtroppo della trama non possiamo dire nulla. Gli attori sono... Gli attori sono dei attori famosi olandesi. Tutti olandesi. Sì, sì, non sono conosciuti qua, sono tutti conosciuti olandesi. Alcune scene le avete girate all'interno di una boutique figlinese, come mai questa scelta? Perché uno dei attori è una designer di moda e siccome abbiamo trovato questo posto qua li abbiamo scelto a girarli di là, insomma. Bene, prossimi progetti, tornerete qui in Italia. Qui siamo un mese e dopodiché torniamo in Olanda e finiamo il film in Olanda. Bene, grazie mille. Prego.